tre amici vanno a passeggio allora come va ma così così non riesco a trovare un nuovo lavoro devo pagare le bollette è che tu cerchi un lavoro comodo comodo no no se pagano sono risposto a tutto sia tutto immagino sì a tutto allora guarda per farti capire che non si può fare tutto per i soldi la vedi quella cacca se la mangi ti do mille euro no dai dici davvero sì sì no che schifo vedi ho ragione io va bene mille mille così si mangia la cacca ora mi devi dare mille euro e gli dà mille euro dopo un po però ci ripensa e l'amico per vendicarsi gli dice guarda quella cacca se la mangi ti ridò i mille euro l'amico la mangia e gli dà mille euro il terzo amico che aveva visto tutto allora dice bravi entrambi che avete mangiato due cacche per niente ciao ciao ciao